fare? Allora intanto per immaginare cosa può accadere più che un costituzionalista serve il mago di Avellino a questo punto. Il costituzionalista può osservare un paio di cose, intanto che è bene che tutto questo dibattito dalle spiagge si sia trasferito in Parlamento perché questo perlomeno consente anche un controllo dell'opinione pubblica su atti e documenti formali. Io poi osserverei che nessuna legislatura nella storia repubblicana è mai durata meno di due anni. Accadde negli anni 90 un paio di volte, 92, 94, 94, 96 ed è accaduto 2004, 2006 il decennio successivo. Se si votasse a ottobre questa sarebbe la legislatura più breve della storia, non è un primato di cui credo Mattarella sarebbe contento di appuntarsi sul petto. Da un lato questo, da un l'altro c'è un istinto di sopravvivenza dei gruppi parlamentari, quindi tutto spingerebbe verso un prolungamento della legislatura. Che se si votasse per il taglio dei parlamentari sarebbe quasi automatico, giusto? Secondo me è doveroso perché altrimenti crei un cortocircuito. Perché se tu riduci di 345 i deputati e i senatori, ma fai votare gli italiani a ottobre per mille parlamentari e poi dopo alcuni mesi questa riforma entra in vigore, ti trovi con 345 inquilini abusivi del palazzo e Mattarella dovrebbe, come fece Scalfaro nel 1994, dopo il referendum segni che cambiò la legge elettorale, dovrebbe forse sciogliere di nuovo le camere e andremmo a Weimar, ci andremmo a una situazione di avvitamento della democrazia. Quindi per evitare questo scenario, nel momento in cui la riforma fosse votata dalle camere, bisognerebbe aspettare che la riforma entra in vigore e quindi l'eventuale referendum e quindi i 60 giorni previsti dall'articolo 4 del disegno di legge costituzionale perché si rimodulino i collegi e ce ne andiamo comunque in primavera. E quindi quello che aveva detto Salvini, votiamo il taglio dei parlamentari e poi andiamo subito alle elezioni, però gli si ritorcerebbe un po' contro.